Capitolo 7 Nella casa di Tom Bombadil I quattro hobbit varcarono l'ampia soglia di pietra e si arrestarono, abbagliati. Erano in una stanza lunga, dal soffitto basso, illuminata a giorno da lampade che oscillavano appese alle travi della volta, mentre sul tavolo di lucido legno scuro un'infinità di candele alte e gialle ardevano allegramente. Su di una sedia all'altra estremità della stanza sedeva una donna. La lunga chioma bionda le scendeva sulle spalle. La sua veste era verde, del verde dei giovani germogli, tempestata da argente e perle di rugiada, e la cintura d'oro pareva una catena di gigli incastonata di non ti scordar di me. Ai suoi piedi migliaia di candi di gigli galleggiavano in vasi di ceramica verde e marrone, pari a un piccolo lago intorno a un trono. «Siate benvenuti, cari ospiti», disse, e a quella voce gli hobbit capirono che era la stessa limpida voce che avevano sentito cantare poco prima. Fecero qualche timido passo avanti, inchinandosi profondamente e a più riprese. Goffi, stupiti e impacciati come gente che, avendo bussato alla porta di una casetta per chiedere un bicchier d'acqua, si fosse improvvisamente trovata al cospetto di una splendida giovane regina elfica, interamente vestita di fiori. E quando ella corse loro incontro, sentirono il suo abito frusciare come una dolce brezza sulle rive fiorite di un fiume. «Venite, cara gente», disse, prendendo Frodo per mano. «Ridete e siate felici. Sono Baccador, la figlia del fiume». Quindi passò loro accanto e andò a chiudere la porta, dicendo, mentre vi si appoggiava dolcemente, «Chiudiamo fuori la notte. Forse temete ancora le nebbie oscure e le ombre minacciose degli alberi, le acque profonde e gli esseri malvagi. Non abbiate più paura. Per questa notte siete sotto il tetto di Tom Bombadil». Gli hobbit la guardavano estasiati e lei li guardò uno per uno e sorrise. «Dolce dama Baccador», osò infine dire Frodo, sentendosi profondamente turbato e commosso da una gioia inspiegabile. Aveva provato a volte una sensazione simile, incantato dalla dolce voce degli elfi. Tuttavia questo sortilegio era diverso, un piacere meno nobile e meno intenso, ma più profondo e umano, penetrava infino al cuore. Meraviglioso, eppure non misterioso. «Dolce dama Baccador», disse nuovamente. «Ora capisco da dove veniva la gioia nascosta nelle canzoni che udivamo. Esile più di un salice, più limpida dell'acqua, più brillante di un lume, o giunco chinato sul lago, o dolce figlia del fiume. Tu sei estate e primavera, e poi nuovamente estate, tu delle fronde le risa, e brezza sulle cascate». D'un tratto si fermò, balbettando, sopraffatto, dalla sorpresa di sentirsi parlare in quel modo. Ma Baccador arrise. «Benvenuto», disse, «non sapevo che la gente della contea visse favella così poetica, ma vedo che sei un amico di elfi. La luce in fondo ai tuoi occhi e il suono della tua voce ne sono una prova. Qual felice incontro! Sedete adesso, in attesa del messere della casa. «Non tarderà! Sta accudendo alle vostre stanche bestie!» Gli Hobbit si sedettero grati e felici su basse sedie di giunco, mentre Baccador si occupava della tavola. E i loro occhi seguivano ogni suo movimento, la cui grazia, agilità e armonia li riempivano di suave letizia. Dal retro della casa giungeva il suono di un canto. Ogni tanto coglievano, frammisto a molti bel dole balbillo e suona un dong dillo, il ritornello. «Vecchio Tom Bombadil è un tipo allegro, ha gli stivali gialli e la giacca blu cielo!» «Graziosa dama», disse dopo qualche attimo Frodo. «Perdona se la mia domanda ti sembrerà stolta, ma potresti dirmi chi è Tom Bombadil?» «È lui», rispose Baccador, interrompendo i suoi agili movimenti per sorridergli. Frodo la guardò perplesso. «È lui, come avete visto», ella disse in risposta al suo sguardo. «È lui il messere di bosco, acqua e collina». «Allora tutta questa terra gli appartiene?» «Oh no! Sarebbe un fardello troppo pesante», soggiunse a bassa voce, come se parlasse con se stessa. «Le alberi, le erbe e ogni cosa che cresce o che vive in questa terra non hanno padrone. Tom Bombadil è il messere. Nessuno ha mai afferrato il vecchio Tom mentre camminava nella foresta, o mentre guadava il fiume, o mentre saltellava sulla sormità delle colline, sotto i reggi del sole o nell'oscurità. Egli non ha timore. Tom Bombadil è signore». Una porta si aprì e Tom Bombadil entrò. Non portava più il cappello e foglie autunnali incoronavano la sua folta capigliatura castana. Rise e avvicinatosi a Baccador le prese una mano. «Ecco la mia bella dama», disse inchinandosi davanti a lei. «Ecco la mia Baccador, tutta vestita di verde e d'argento e cinta di fiori. E' apparecchiata la tavola. Vedo crema gialla e miele e pane bianco e burro. Vedo riuniti assieme latte, formaggio, verdi erbe e bacche mature. Sarà sufficiente per noi. È pronto il nostro pranzo?» «Il pranzo è pronto, ma i tuoi ospiti forse non lo sono». Tom batte le mani, esclamando «Tom, Tom, i tuoi amici sono stanchi e te ne sei scordato. Venite, venite, miei gioiosi amici. Tom vi porterà a rinfrescarvi. Via lo sporco dalle mani e la fatica dagli stanchi visi. Gettate via i vostri manti fangosi e pettinate i nodi dei capelli». Aprì la porta e si fece seguire lungo un piccolo corridoio che in fondo curvava ad angolo retto. Giunsero così in una stanza dal soffitto basso e inclinato. Doveva essere una rimessa costruita all'estremità nord della casa. Le pareti erano di pietra, ma quasi interamente ricoperte di stuoglie verdi e di tende gialle. Le mattonelle del pavimento erano cosparse di freschi giunchi verdi. Quattro morbidi materassi, dalle bianche coperte rimboccate, erano stesi per terra uno accanto all'altro. Alla parete opposta c'era una lunga panchina, munita di bacinelle di ceramica e di brocche piene d'acqua calda e fredda. Soffici pantofole verdi erano preparate ai piedi di ogni letto. Lavati e rinfrescati, gli hobbit si sedettero poco dopo a tavola, dove Baccador e il messere avevano già preso posto ai due capi. Il pasto fu lungo e gioioso, e benché gli hobbit divorassero come soltanto un hobbit affamato sa divorare, c'era di tutto in abbondanza. La bevanda che empiva le loro ciotole pareva acqua fresca e pura, e tuttavia li inebriò come vino, dando loro voglia di cantare. Gli ospiti si accorsero improvvisamente che il canto sgorgava spontaneamente dalle loro labbra, quasi fosse più semplice e naturale cantare che parlare. Infine, Tom e Baccador si alzarono e sparecchiarono veloci, impedirono agli ospiti di dare una mano, e li fecero anzi accomodare su comode sedie, provviste di soffici sgabelli per appoggiarvi gli stanchi piedi. Nel grande camino ardevano rami di melo, diffondendo un dolcissimo profumo. Quando tutto fu in ordine, spensero le luci della stanza, salvo una lampada e un paio di candele poste ai lati del camino. Baccador si avvicinò allora agli hobbit, tenendo in mano una candela, e augurò a ognuno la buonanotte e un sonno tranquillo. «Riposate in pace fino al mattino», disse. «Non temete i rumori notturni. Sappiate che nulla può attraversare porte e finestre e nulla penetra in questa casa, salvo il chiarore della luna e delle stelle e il vento della cima del colle. Buonanotte». Scomparve dalla stanza con un fruscio e un bagliore. Il suono dei suoi passi era simile al fluire di un ruscello giù per i colli, tra pietre fresche, nella quiete della notte. Tom rimase a lungo seduto accanto a loro, in silenzio, mentre ognuno cercava di racimolare il coraggio per una sola delle innumerevoli domande che avrebbe desiderato porre durante il pranzo. Il sonno pesava sulle loro palpebre. Finalmente Frodo si decise a parlare. «Dimmi, messere, mi avevi udito chiamare questo pomeriggio? O fu soltanto il caso dirigere i tuoi passi verso di noi in quel momento?» Tom si scosse come un uomo svegliato all'improvviso da un piacevole sogno. «Eh? Cosa?» disse. «Se ti avevo sentito chiamare? No, non ho sentito niente. Ero molto occupato a cantare. A portarmi da voi fu solo il caso, se così vuoi chiamarlo. Non era in programma, benché ti stessi aspettando. Avevamo ricevuto tue notizie, sapevamo che eravate in viaggio e sapevamo pure che sareste venuti giù lungo il fiume. Tutti i sentieri portano lì, al sinuo Salice. Il vecchio uomo Salice Grigio è un potente cantore e difficilmente la gente piccolina riuscirebbe a eludere i suoi ingegnosi stratagemmi, ma Tom aveva un compito da svolgere che non osava rinviare». La testa incominciò a ciondolargli come se fosse nuovamente colto dal sonno, ma continuò, cantilenando dolcemente. «Avevo un compito da svolgere, cogliere tanti gigli, verdi foglie e gigli candidi per la mia dolce dama, per conservare gli ultimi prima della fine dell'anno, al riparo dalla neve, a fiorire ai suoi piedi. Ogni anno, sul finire dell'estate, li vado a cercare per lei, in un limpido stagno profondo, lontano, sul sinuo Salice. Lì in primavera sono i primi a sbocciare, e lì i più lunghi a durare. E lì, tanto tanto tempo addietro, trovai la figlia del fiume. Dolce Baccador, seduta in mezzo ai giunchi». Aprì gli occhi, e guardò gli Hobbit con un improvviso bagliore azzurro. «Ed è stato un bene per voi, perché ormai non tornerò più lì in fondo lungo le acque del fiume. Ora che l'anno muore, e nemmeno passerò più la casa del vecchio uomo Salice Grigio, fino a primavera, quando allegra la figlia del fiume, va ballando nel sinuoso sentiero, e si tuffa nell'acqua». Tacque nuovamente, ma Frodo non poteva trattenersi dal fargli un'altra domanda, quella a cui teneva di più. «Parlaci, messere, dell'uomo Salice», disse. «Chi è? Non avevo mai sentito parlare di lui prima d'oggi». «No, zitto!» esclamarono Mary e Pipino all'unisono, saltando su. «Non è ora! Aspetta domattina!» «Giusto», disse il vecchio. «Questa è l'ora del riposo. È nefasto parlare di certe cose quando il mondo è immerso nell'ombra. Dormite fino alle luci del mattino, riposate sul cuscino, non temete i rumori notturni, non abbiate paura di Salice Grigi». Così dicendo, prese la lampada spegnendola con un soffio. Quindi, tenendo in mano le due candele, li accompagnò fuori dalla stanza. I materassi e i cuscini erano soffici e morbidi come piume, e le coperte di candida lana. Appena si infilarono sotto le lenzuola, affondandone il comodo letto, chiusero gli occhi e si addormentarono. Era notte fonda, e Frodo faceva sogni cupi e tormentosi. Allora gli apparve la luna nuova, i cui deboli raggi rischiaravano un muro di roccia nera che giganteggiava davanti a lui, e dove un arco buio si apriva come un gran cancello. Affrodo parve che qualcosa lo sollevasse verso l'alto, e nell'ascesa vide che il muro di roccia era una corona di colli che circondava una pianura. Al centro si ergeva un pinnacolo di pietra simile a un'alta torre edificata da un artefice sovrumano. Sulla cima stava ritta la figura di un uomo. La luna si innalzò, e parve arrestarsi un momento sulla sua testa, facendone scintillare i capelli bianchi mossi dal vento. Dalla pianura oscura giungevano le grida di voci crudeli e l'ululato di feroci lupi. All'improvviso la sagoma di due grandi ali oscurò la luna. La figura alzò le braccia, e una luce lampeggiò dallo scettro che reggeva in mano. Un'aquila maestosa solcò l'aria, e calatasi su di lui lo portò via con sé. Le voci gemettero, e i lupi mugolarono. Si udì come il boato di un vento turbinoso, accompagnato dal fragore di zoccoli che venivano da Est, galoppando, galoppando, galoppando. I cavalieri neri, pensò Frodo, svegliandosi di soprassalto, col rumore degli zoccoli che gli rimbombava ancora in testa. Si domandò se avrebbe mai avuto il coraggio di abbandonare quelle pareti di pietra solide e sicure. Rimase immobile, allerta, in ascolto. Ma tutto era silenzioso, ed egli si voltò infine di fianco, riaddormentandosi e abbandonandosi in qualche altro sogno vago e poi obbliato. Accanto a lui, Pipino sognava beato. Ad un tratto i suoi sogni si trasformarono, ed egli si voltò gemendo. All'improvviso si svegliò. Ogli parve di essersi svegliato, pur continuando a sentire, nell'oscurità, il rumore che aveva turbato il suo sonno. Sembravano rami, agitati dal vento, arbusti che grattavano e graffiavano i muri. Immaginò che ci fossero salici nelle vicinanze della casa. Poi fu colto dal panico, convinto di non essere in una vera e propria casa, ma all'interno del salice che rideva ancora sarcastico, con quella sua abominevole voce stridula e cigolante. Si sollevò bruscamente a sedere, e il soffice materasso cedette sotto di lui, riportandolo alla realtà. Si distese nuovamente, più tranquillo. Gli sembrava di sentire l'eco di soavi parole. Non temete nulla. Riposate in pace sino al mattino. Non abbiate paura dei rumori notturni. Si riaddormentò. Il sonno pacifico di Mary fu turbato soltanto da un mormorio di acqua. Acqua che scorreva fluida, dolcemente, e che poi si espandeva, si espandeva irresistibilmente, e circondava la casa come uno stagno fondo, buio e senza sponde. Gorgogliava sotto i muri, e saliva, lenta ma inesorabile. «Annegherò», si disse. «Troverò un modo per penetrare in casa, e io annegherò». Aveva l'impressione di trovarsi disteso in un fango molle e viscido, e sentiva di non poter più resistere. D'un balzo salto su, polgiando un piede su di una mattonella fredda e dura. Allora si ricordò dove era, e si rimise a letto. Gli parve di sentire, o di ricordarsi, l'eco di suavi parole. «Sappiate che nulla attraversa porte e finestre, e nulla penetra in questa casa, salvo il chiarore della luna e delle stelle, e il vento della cima del colle». Un alito d'aria tiepida mosse le tende. Egli respirò profondamente, e si riaddormentò. Sam ricordò ben poco, ma gli parve di aver fatto un sonno piacevolissimo, ammesso che il sonno di un ghiro possa essere piacevole. Si svegliarono, tutte e quattro insieme, alla luce del mattino. Tom gironzolava per la stanza fischiettando come uno storno. Quando sentì che si stiracchiavano, batte le mani gridando «Ehi, vieni bel doll, cara doll, amici cari!». Apri le tende gialle alle due estremità della stanza, e gli hobbit si accorsero allora della presenza di due finestre, una rivolta a est e l'altra a ovest. L'aria mattutina li rinfrescò, ed essi saltarono fuori dal letto. Frodo corse alla finestra a oriente, e vide che dava su di un orto ricoperto di grigia rugiada. Si era quasi aspettato, di vedere prati interamente ricoperti d'erba, di un'erba calpestata da migliaia di zoccoli. Una parete di fagiolini rampicanti gli ostruiva la vista, ma al di là riusciva a intravedere la lontana sommità della collina che si stagliava contro il cielo alveggiante. La mattina era pallida. A est, dietro lunghe nuvole simili a fili di lana con le punte colorate di rosso, lo sfondo pareva uno stagno giallo e scintillante. Il cielo annunciava la pioggia imminente, ma la luce si diffondeva rapida, e i fiori rossi dei fagiolini ardevano fra le umide foglie verdi. Pipino si affacciò alla finestra rivolta a occidente, e i suoi occhi spaziarono in un mare di nebbia. La foresta ne era totalmente avvolta. Gli pareva di guardare dall'alto un tetto di nuvole spiovente. In un punto, che doveva essere un canale o un dirupo, il mare di nebbia si trasformava in un susseguirsi di spirali e di pennacchi. Capì che si trattava della valle del sinuo salice. Il torrente scorreva giù per la collina alla sua sinistra, scomparendo nelle ombre bianche. Accanto alla finestra c'erano degli aiuole, e una siepe ben tagliata e ricoperta di una rete argentata, al di là della quale un pallido prato grigio luccicava di rugiada. Non c'era nemmeno un salice in vista. «Buongiorno, gioiosi amici!» esclamò Tom, spalancando la finestra a oriente. L'aria che inondò la stanza era fresca e odorava di pioggia. «Credo proprio che il sole non si farà vivo oggi. Ho passeggiato a lungo, saltellando sin dall'alba grigia sulle sommità delle colline, annusando l'aria e il vento. E l'erba era umida sotto i miei piedi, umido il cielo sulla mia testa. Ho svegliato Baccador cantando sotto la sua finestra, ma non c'è niente che riesca a destare gli Hobbit la mattina presto. Di notte sussultano nel buio, e si addormentano quando ormai è arrivata la luce. Suona un dingdillo! Svegliatevi ora, miei allegri amici! Dimenticate i rumori notturni! Suona un dingdillo del, dillo del, miei cari! Se vi affrettate troverete la colazione che vi attende sulla tavola, ma se arrivate tardi avrete solo erba e pioggia!» Inutile dire che nonostante la minaccia di Tom non sembrasse molto seria, gli Hobbit si precipitarono, alzandosi da tavola molto tardi, quando ormai era stata svuotata. Né Tom né Baccador presero parte alla colazione. Tom lo sentivano muoversi affaccendato per casa, far rumore in cucina, andare su e giù per le scale, rovistare negli armadi e cantare di tanto in tanto qui e là. La stanza dove si trovavano si affacciava occidente sulla valle nebbiosa. La finestra era aperta e l'acqua gocciolava giù dalle gronde del tetto gorgogliando. Prima che finissero la colazione, le nuvole si erano addensate e ammassate a tal punto da formare un pesante soffitto, e una grigia pioggia fitta e ostinata cadeva silenziosamente, formando un'uggiosa tenda che nascondeva completamente la foresta. Mentre guardavano fuori dalla finestra, la limpida voce di Baccador giunse alle loro orecchie dall'alto, come se fluisse dolcemente giù dal cielo insieme alla pioggia. Cantava suavemente, e dalle poche parole che riuscivano a distinguere capirono che era una canzone di pioggia, dolce come l'acqua e rugiola sulle aride colline che narrava la storia di un fiume, dalla nascita in una sorgiva di alta montagna fino allo sbocco nel vasto mare. Gli Hobbit ascoltavano rapiti. Frodo si sentiva il cuore leggero e felice, e ringraziava il tempo che ritardava la loro partenza. Il pensiero della separazione e dell'addio l'aveva tormentato sin dal momento del risveglio, ma ora si rendeva conto che per quel giorno non avrebbero proseguito. Il vento soffiava turbinoso da nord verso ovest, spingendo valanghe di nuvole sempre più grosse e più nere, che rovesciavano scrosci di pioggia torrenziale sulle brulle cime dei tumuli lande. Non si vedeva altro intorno alla casa che acqua e diluvio. Frodo, in piedi vicino alla porta aperta, osservava il bianco terreno gessoso trasformato in piccolo fiume lattiginoso che scorreva gorgogliando verso la valle. Don Bombadil arrivò trotterellando dall'altro lato della casa, agitando le braccia come per proteggersi dall'acqua, e quando varcò con un balzo la soglia pareva davvero asciutto, eccetto che per gli stivali, che si tolse e posò in un angolo del camino. Quindi si sedette nella poltrona più comoda e chiamò gli hobbit intorno a sé. Oggi è il giorno in cui Baccador fa il bucato, disse, e le pulizie autunnali. Troppo umido per degli hobbit, è meglio che si riposino un po', dato che ne hanno l'opportunità. È un giorno adatto per i lunghi racconti, per le domande e le risposte, e Tommy comincerà dunque a narrare. Raccontò loro molte storie favolose, a volte parlando sottovoce, come a sé stesso, a volte guardandoli improvvisamente con i suoi luminosi occhi blu intenso, che spuntavano da sotto le folte sopracciglia. Spesso la sua voce intonava un dolce canto, ed egli si alzava, danzando per la stanza. Parlò loro di api e di fiori, delle abitudini degli alberi, delle strane creature della foresta, di cose buone e di cose malvagie, di cose amiche e di cose nemiche e ostili, di cose crudeli e di cose gentili, e dei segreti nascosti sotto i rovi aggrovigliati. Man mano che ascoltavano cominciarono a capire la vita della foresta, una vita distaccata da loro, indipendente e armoniosa, e si sentirono estranei, in un mondo a sé. Il vecchio uomo salice era costantemente presente nei discorsi di Tom, e Frodo apprese molto sul suo conto, tanto da soddisfare la sua curiosità e da riempirsi di inquietudine. Poiché non erano certo notizie confortanti, le parole di Tom mettevano a nudo il cuore e i pensieri degli alberi, che erano spesso cupi e bizzarri, pieni di odio per tutto ciò che cammina liberamente sulla terra e che rode, morde, strappa, rompe, sega e brucia. Distruttori usurpatori! Non a caso veniva chiamata Vecchia Foresta, poiché era estremamente antica, l'ultima superstite di immensi boschi dimenticati. In essa vivevano ancora, invecchiando insieme alle brulle colline, i padri dei padri degli alberi, memori dei tempi in cui erano ancora loro i signori. Gli innumerevoli anni li avevano riempiti di orgoglio, di profonda saggezza, ma anche di malizia. Ma il più pericoloso di tutti era il grande Salice. Il suo cuore era marcio, ma verde era la sua forza. Era astuto, padrone dei venti, e il suo canto e il suo pensiero attraversavano i boschi, seguendo le due rive del fiume. Il suo spirito grigio e assetato traeva vigore e potenza dalla terra, in cui si diffondeva con una fine trama di radici, mentre nell'aria si espandeva come la linfa di infiniti invisibili rami. Ebbe così sotto il suo dominio quasi tutti gli alberi della foresta, dalla siepe fino ai remoti tumuli lande. Improvvisamente il discorso di Tom abbandonò i boschi e risalì saltellando il corso del giovane fiume, oltre le cascate tumultuose, oltre i sassi e le rocce levigate, oltre i prati verde intenso cosparsi di fiorellini, oltre le umide fessure, giungendo infine ai tumuli lande. Sentirono così parlare dei grandi tumuli, delle verdi montagnole, dei recinti di pietra sulle colline, nelle grotte e nelle caverne. Greggi di pecore belavano, sorsero mura verdi e mura bianche. Sulle alture si ergevano delle fortezze. Redi piccoli reami si combattevano aspramente, mentre il giovane sole brillava come un tizzone sul rosso metallo delle loro spade fiammanti e avide. Ci furono vittoria e sconfitta. Le torri cadevano, le fortezze bruciavano e le fiamme salivano sino in cielo. Oro fu versato sulle bare di re e regine morti e cumuli di terra li ricoprirono. Le porte di pietra furono chiuse e l'erba crebbe su tutto. Le pecore tornarono per un po' a brucare l'erba, ma presto i colli furono nuovamente vuoti. Un'ombra uscì da luoghi oscuri e remoti e le ossa si agitarono sotto la terra. Spettri dei tumuli errarono nelle caverne con tintinni di anelli alle fredde dita e catene d'oro al vento. Recinti di pietra sbucarono da terra, sghignazzando ai raggi di luna come denti rotti. Gli hobbit rabbrividirono. Le voci sugli spettri dei tumuli al di là della foresta erano giunte sino alla contea. Ma non era una storia che uno hobbit amasse ascoltare, anche stando comodamente e al sicuro seduto davanti a un camino. Improvvisamente i quattro ricordarono quel che l'allegria della casa aveva allontanato dalla loro mente. Subito dietro le loro spalle si ergevano quelle abominevoli colline. Persero il filo del discorso e si lanciarono un'occhiata preoccupata, agitandosi irrequieti sulle sedie. Quando finalmente riuscirono a concentrarsi di nuovo su ciò che diceva il vecchio Tom, scoprirono che aveva percorso molta strada, giungendo in strane regioni al di là della loro memoria e del loro pensiero cosciente, in tempi quando il mondo era più vasto e le acque scorrevano direttamente alla spiaggia occidentale. E Tom continuava cantando a risalire le epoche fino all'antica luce stellare, quando solo i padri degli elfi vegliavano. Poi, all'improvviso, smise di parlare e videro che la testa gli cominciava a ciondolare come se stesse per addormentarsi. Gli hobbit sedevano immobili e silenziosi, estasiati, e parve che il sortilegio delle sue parole avesse placato il vento, asciugato le nuvole e allontanato la luce del giorno per far posto all'oscurità giunta dall'ovest e dall'est. Il cielo era inondato dal bagliore di bianche stelle. Frodo non riusciva a capire se mattina e sera si fossero alternati per uno o più giorni, non si sentiva né stanco né affamato, soltanto colmo di meraviglia. Le stelle brillavano attraverso la finestra e il silenzio dei cieli sembrava circondarlo. Finalmente riuscì a vincere il suo rapimento e parlò come colto da un'improvvisa paura del silenzio. Messere, chi sei? gli chiese. Eh, cosa? disse Tom raddrizzandosi, mentre i suoi occhi rifulgevano nelle tenebre. Non conosci ancora il mio nome? Questa è l'unica risposta. Dimmi, chi sei solitario essere senza nome? Ma tu sei giovane e io molto vecchio, il più anziano. Ecco chi sono. Ricordate, amici, quel che vi dico. Tom era qui prima del fiume e degli alberi. Tom ricorda la prima goccia di pioggia e la prima ghianda. Egli tracciò i sentieri prima delle tombe e degli spettri dei tumuli. Quando gli elfi emigrarono a ovest, Tom era già qui. Prima che i mari si curvassero, conobbe l'oscurità sotto le stelle, quando era innocua e senza paura. Prima che da fuori giungesse l'oscuro signore. Un'ombra sembrò passare davanti alla finestra e gli hobbit lanciarono un'occhiata fugace attraverso i vetri. Quando si voltarono di nuovo, videro Baccador in piedi sulla porta, incorniciata di luce. Reggeva una candela, riparando la fiamma dalla corrente d'aria con una mano e la luce traspariva come un raggio di sole attraverso una conchiglia. La pioggia è finita, disse. E nuovi ruscelli scorrono sotto le stelle verso la pianura. È ora di ridere e di stare in allegria. Ed è anche ora di bere e di mangiare, esclamò Tom. Le lunghe storie mettono sete e a furia di ascoltare mattino, pomeriggio e sera si diventa affamati. Così dicendo, saltò in piedi e con un balzo prese dal cammino una candela che accese alla fiamma di quella di Baccador. Quindi danzò intorno al tavolo e improvvisamente saltando fuori dalla porta, scomparve. Ritornò presto, portando un grande vassoio ricolmo di ogni bene. Tom e Baccador apparecchiarono la tavola, mentre gli hobbit li guardavano metà meravigliati e metà sorridenti. Sì dolce era la grazia di Baccador e sì allegre e bizzarre le piroette di Tom. Eppure, in qualche modo sembravano tessere un'unica danza, armonizzandosi e completandosi. Dentro e fuori la stanza e tutti intorno al tavolo. Ben presto, cibo, piatti e luci furono al loro posto. La stanza era illuminata al giorno da candele bianche e gialle. Tom si inchinò verso i suoi ospiti. «La cena è pronta», disse Baccador, e gli hobbit videro allora che era tutta vestita d'argento, con una cintura bianca e i calzari di un tessuto a squame di pesce. Tom era invece tutto in azzurro limpido, azzurro come dei non ti scordar di me, lavati dalla pioggia, e le sue calze erano verdi. La cena fu anche più buona dei pasti precedenti. Se la magia delle parole di Tom aveva fatto saltare agli hobbit uno o più pasti, ora che erano a tavola, parve loro di essere digiuni da almeno una settimana. Non cantarono e nemmeno parlarono per un bel po', attenti unicamente ai loro affari. Ma quando ebbero rinfrancato cuori e spiriti, le loro voci risuonarono di nuovo, allegre e ridenti. Quando ebbero finito di mangiare, Baccador cantò molte canzoni, canzoni che partivano gioiose e spensierate dalle verdi colline e cadevano dolcemente nel silenzio. In quei silenzi, con gli occhi della fantasia, videro immagini di laghi immensi e sconosciuti, nelle cui profondità si rispecchiavano il cielo limpido e le stelle brillanti come gemme. Baccador augurò quindi loro la buonanotte e li lasciò seduti lì accanto al camino. Ma ora Tom era sveglio e razzillo e li sommerse di domande. Scoprirono che sapeva già molto di loro e delle loro famiglie e persino della storia e degli eventi della contea sin dai tempi che gli hobbit stessi non ricordavano ormai più. Non se ne stupirono, ma egli rivelò come gran parte delle informazioni più recenti gli fossero state fornite dal vecchio Maggot, che egli pareva considerare persona molto più importante di quanto non avessero immaginato. C'è terra solida sotto i suoi vecchi piedi, creta sulle sue dita, saggezza nelle sue ossa e i suoi occhi sono ben aperti. Era anche chiaro che Tom aveva rapporti con gli elfi e pareva che in qualche modo Gildor l'avesse informato della fuga di Frodo. Tom sapeva tante cose e le sue domande erano sì astute che Frodo gli raccontò sul conto di Bilbo e sulle proprie speranze e angosce più di quanto non avesse mai detto allo stesso Gandalf. Tom annuiva e quando gli sentì nominare i cavalieri neri una luce balenò nei suoi occhi. Mostrami il prezioso anello, gli disse improvvisamente nel bel mezzo di un discorso e Frodo con sua enorme sorpresa si tolse di tasca l'anello e sganciando la catenella lo tese a Tom senza indugio. Sulla sua grande mano oscura parve a ingrandirsi. Poi all'improvviso se lo mise all'occhio e scoppiò a ridere. Per un attimo gli Hobbit videro l'immagine comica e impressionante allo stesso tempo del suo occhio blu intenso incorniciato da un cerchio d'oro. Quindi Tom infilò l'anello alla punta del dito mignolo e lo accostò alla luce della candela. Da principio gli Hobbit non notarono niente di anormale ma a un tratto spalancarono stupefatti la bocca. Tom non accennava a scomparire. Tom rise nuovamente e poi fece roteare per aria l'anello che con un lampo svanì. Frodo lanciò un grido ma Tom si chinò verso di lui consegnandoglielo con un sorriso. Frodo lo osservò da vicino e con una certa diffidenza come chi avesse prestato un gioiello a un prestigiatore. L'anello era lo stesso o perlomeno era quello il suo aspetto e il peso. Quell'anello infatti era sempre parso a Frodo stranamente pesante. Ciò nonostante qualcosa lo spingeva a volersene accertare. Era forse leggermente seccato con Tom che prendeva tanto alla leggera quel che persino Gandalf considerava estremamente importante e pericoloso. Aspettò che la conversazione riprendesse e mentre Tom raccontava una storia assurda sui tassi e le loro strane abitudini colse l'occasione e si infilò al dito l'anello. Mary si voltò verso di lui per dirgli qualcosa e sussultò frenando a malapena un'esclamazione di stupore. Frodo si sentì in certo qual modo soddisfatto. Doveva essere davvero il suo anello se Mary guardava la sedia instupidito senza riuscire evidentemente a vederlo. Si alzò e silenziosamente si allontanò dal camino dirigendosi verso la porta. Ehi tu! gridò Tom lanciandogli lo sguardo più penetrante dei suoi occhi luminosi. Ehi vieni qui Frodo dove te ne stai andando? Tom Bombadil non è ancora diventato tanto cieco da non vederti. Togliti quell'anello d'oro la tua mano sta molto meglio senza. Torna qui lascia perdere i giochetti e siediti accanto a me. Abbiamo ancora tante cose da dirci e dobbiamo pensare a domattina. Tom vi deve insegnare la strada giusta e impedire che i vostri passi vadano vagando senza meta. Frodo rise sforzandosi di sembrare compiaciuto e togliendosi l'anello tornò a sedersi accanto al fuoco. Tom disse che senza alcun dubbio l'indomani sarebbe stata una bella giornata piena di sole che avrebbe così reso la loro partenza piacevole e confortata dagli eti auspici. Ma era consigliabile partire di buonora poiché in quella regione il tempo era una cosa della quale neanche Tom poteva essere a lungo sicuro. A volte era più rapido a cambiare che non Tom a togliersi la giacca. Non sono io il padrone delle tempeste disse e nessun altro che cammini con due gambe lo è. Seguendo il suo consiglio stabilirono di puntare direttamente a nord attraversando le basse pendici occidentali dei tumuli lande. In quel modo forse ce l'avrebbero fatta a raggiungere la via est in un giorno evitando di passare per i tumuli. Tom disse loro di non aver paura ma di non andare ficcando il naso ovunque. Non uscite dai verdi prati non vi impicciate delle vecchie pietre o dei freddi spettri dei tumuli non andate curiosando nelle loro case se non siete creature intrepide dall'impavido cuore di leone. Lo ripete più di una volta raccomandando loro di attraversare i tumuli soltanto sul fianco occidentale se fossero per caso costretti a valicarne. Quindi insegnò loro una strofa da cantare l'indomani per scongiurare eventuali pericoli o difficoltà. Oh Tom Bombadil, Tom Bombadillo, nell'acqua, bosco e colle, tra il salice e il giunchio, con fuoco, sole e luna, ascolta il mio richiamo. Vieni Tom Bombadil, del tuo aiuto abbisogniamo. Dopo che ebbero tutti cantato in coro questa strofa dietro a lui, Tom diede loro ridendo una manata sulla spalla e prendendo le candele, li ricondusse alla camera da letto.